Sono in set al Via, all'1 Vinicio Mail, Raffaele Forino, al 2 Venere Ciak SM, Antonio Di Nardo, al 3 Valbruna Jet, Dario Battistini, al 4 Victoria Luis, Mario Minopoli Junior, al 5 Velvet Deni, Gaetano Di Nardo, al 6 Vermon Ciak SM, che toglie i ferri posteriori, con Giampaolo Minucci, al 7 Verità Bibo, Vincenzo Luongo. Gioco orientato adesso su Velvet Deni, ma praticamente il ruolo di favorito, sono giocati in 4-5 cavalli, e adesso si va formando l'allineamento, leggermente discosto Vinicio Mail, che tende a prenderla un pochino lanciata, problemi per Venere Ciak SM, che sbaglia, la macchina che va per lasciare i concorrenti, partiti con l'errore di Velvet Deni, che viene via scarrierando, e allora lascia davanti Vermon Ciak SM, che si porta al comando nei confronti di Valbruna Jet, per lì in esterne, si fa vedere Verità Bibo. Così a metà della piegata, dietro qualche problemino, anche per Vinicio Mail, che ripiega in coda il gruppo, intanto al passaggio ai 400 metri, c'è l'attacco da parte del numero 7 Verità Bibo, che si porta al comando, 29 e mezzo il passaggio per il primo quarto di gara, con Verità Bibo, che davanti alle tribune comanda, e arriva così ai 600 di gara, in 45. Verità leader nei confronti di Vermon Ciak, poi più indietro Valbruna Jet, che precede Victoria Lewis, così a metà della piegata di destra, con il gruppetto dei superstiti in fila indiana, quando siamo ai 750 finali, con Verità Bibo al comando, sempre nei confronti di Vermon Ciak, per lì in esterne si fa vedere, ora Vinicio Mail in recupero, il chilometro passato in 1'17 e mezzo, con l'attacco adesso da parte del numero 6 Vermon Ciak, deciso nei confronti di Verità Bibo, che prova la replica, con il favore della curva, intanto sbaglia nuovamente Vinicio Mail, allora si fa vedere anche Valbruna, e più indietro rimane Victoria Lewis, questi a lottare, adesso all'ingresso indirittura del Ribo, con Verità Bibo, che con il favore della curva rientra Vermon Ciak, più indietro Valbruna Jet, qui è venuto veramente tutto a puntino, Valbruna che adesso scappa, ma si deve guardare la Victoria Lewis, che va al suo esterno, Victoria all'attacco di Valbruna, le due in lotta negli ultimi metri, con Victoria che attacca a fondo Valbruna, e sul traguardo Victoria Lewis, che viene a concludere nei confronti di Valbruna Jet. Questo è il risponso con Victoria Lewis e Mario Minopoli Junior, al doppio in giornata dopo le prime tre corse, sacco gli ultimi metri, con Valbruna che ha liquidato Verità Bibo, cerca di scappare, ma ora deve difendersi da Victoria Lewis, che nel finale ne ha ragione, quindi Victoria Lewis che finisce da leader nei confronti di Valbruna Jet, mentre per il terzo posto è in quota ancora con il numero 2, Venere Ciac SM.